Benvenuti nel mondo degli orologi Laurent Ferrié. Laurent Ferrié è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 2009 dall'omonimo orologiaio francese. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera presso Patek Philippe, dove ha lavorato alla progettazione di alcuni dei loro orologi più iconici, Ferrié ha deciso di fondare la sua azienda per realizzare i propri sogni e le proprie visioni orologere. La filosofia di Laurent Ferrié è quella di creare orologi di altissima qualità, realizzati a mano dai maestri artigiani dell'azienda, utilizzando solo i materiali più pregiati e le tecniche di produzione più avanzate. Ogni orologio è un pezzo unico, frutto di una combinazione perfetta tra artigianalità e tecnologia. I segnatempo di Laurent Ferrié sono conosciuti per la loro eleganza sobria e la loro eccellente fattura. La bellezza dei suoi orologi risiede nei dettagli, ogni particolare è curato con la massima attenzione, dalla scelta dei materiali alla lavorazione artigianale fino alla finitura perfetta. Tra i modelli più famosi di Laurent Ferrié si annoverano il Galet Classic, il Galet Square e il Galet Traveller. Tutti questi orologi presentano un design pulito, con una cassa in oro o platino e un quadrante ispirato ai classici orologi da polso del XX secolo. Il Galet Classic è il modello più classico e iconico di Laurent Ferrié. Caratterizzato da un design pulito e senza tempo, questo orologio è un vero e proprio manifesto dell'artigianalità svizzera. Il Galet Square, invece, è un orologio più contemporaneo, con un design più audace e moderno. Il movimento meccanico a carica manuale, sempre interamente sviluppato dall'azienda, garantisce una precisione e una riserva di carica simili al Galet Classic. Infine, il Galet Traveller è un orologio ideale per chi ama viaggiare. Questo segnatempo è dotato di un indicatore di fuso orario che consente di leggere l'ora in due fusi orari diversi contemporaneamente. La cassa in oro rosa o bianco, con un diametro di 41 mm, racchiude un quadrante in smalto granfè con un indicatore del fuso orario a ore 9. Il movimento meccanico a carica automatica, sempre interamente sviluppato dall'azienda, garantisce una precisione straordinaria. Laurent Ferrié è un marchio relativamente giovane, ma ha già guadagnato un forte seguito tra gli appassionati di orologi di lusso grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità artigianale e alla bellezza senza tempo dei suoi orologi. L'azienda continua a innovare e a sviluppare nuovi modelli, mantenendo sempre la sua filosofia di creare orologi di altissima qualità.